Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Oggi per me è primo dicembre, quindi è il primo video natalizio Non è vero, non abbiamo già fatto altri dei video natalizi Vabbè, non è che ci sta proprio una logica alla fine Natale, quanto arriva, arriva Era il Natale che è quando arriva, arriva? Non mi ricordo, c'era una pubblicità quando ero piccola Però non me la ricordo, mi sa che era il Natale quando arriva, arriva? Perché Sanremo è Sanremo Boh, vabbè Allora, come promesso, sono qui a mostrarvi la mia collezione di accessori Abbigliamento, sì, per lo più abbigliamento Però insomma, le cose che si mettono addosso e sono natalizie Perché, come vi ho già detto, il sogno della mia vita è Mettemi in maione natalizio, comunque una cosa Cioè, vestirmi in modo natalizio dal primo al 24 dicembre Ci riuscirò quest'anno? No, perché ho messo qua dentro le cose e non ce ne sono 24 Però, però, comincio ad avere una collezione sostanziosa Quindi, probabilmente, l'anno prossimo ce la potrei fare Ce la potrei fare, ok? Comunque, oggi, che per me è primo dicembre, ho cominciato con questo Cioè, ma quanto è carino questo Vabbè, l'avete già visto in un haul Però, oggi, sono andata a The Blue Per cominciare soft Che poi il rosso me lo sparo più avanti Ma ne ho di tutti i gusti, eh Quindi, attenzione Perché abbiamo diverse chicche Cose che avete visto negli haul E anche cose che ho da un po' di tempo Perché poi, parliamo, sei chiaro I maglioni di Natale, ti li metti una volta Cioè, due Non è che ti metti tutti i giorni Quindi, non è che si rovinano un anno o un altro Al massimo non ti entrano E c'è un caso, forse Perché prima ne ho recuperato uno che Non so se quest'anno me lo posso mettere Ma adesso vediamo Allora, io comincerei a caso Perché tanto ce ne sono talmente tanti Questa, credo che me l'abbiate vista Sarebbe anche da stirare L'anno scorso, due anni fa, in un video di Natale Perché ce l'ho da un po' È una felpa di H&M Io compro queste cose, di solito Dopo Natale, pagandole tipo 3-4 euro Poi le metto via E poi le uso il Natale successivo E questa è In realtà sembra più il sopra di un pigiama Mettiamola così Però chi se ne frega Chi se ne frega Sotto maglia termica e via È un po' leggerina Cioè, è decodone Infatti in sesame fai la maglietta decodone E il Natale, vabbè Comunque Maglia di H&M E ce n'ho anche una a maniche corte Che credo di non aver mai messo Forse per un video l'anno scorso Che è Paperina coi pacchi Ma pure questa È a maniche corte Dov'hai a maniche corte Che dentro casa mia ci stanno 13 gradi Non lo so Va bene Allora E quindi Maglietta Che non lo so se si può considerare Proprio per un'intera giornata Vabbè Questo lo vediamo Velocissimo Perché è di Zaful Ho fatto LOL L'altro giorno E questo è un po' Maglione cortina chic È per andare E sciare cortina E io invece Ce sto a casa Perugia Però bene o male Questo è un sacco pesante Mi piace molto questo In realtà È un po' più sobrio Diciamo che con questo Ci posso andare a collaborare Poi Terzo maglione Anche questo è un super affare Ho comprato l'anno scorso È natalizio Però No sì Stava di natalizio Ma non troppo Non è mai vero Cioè Stava di pupazzi De neve col cappello Natalizio Natalizio Collo alto Molto caldo Preso da Zuiki Se non erro Sì Zuiki All'outlet 5 euro Dopo Natale Top Ste cose Se comprano dopo Natale E poi Dovete usare l'anno dopo Così si fa Poi Shin Questo è Shin Non c'è scritto Come sa di sì Questa è una felpa Di plastica Proprio Classico Il materiale De plastica Però Non ci interessa Perché Questa è molto Molto Very molto Natalizia E quindi Che c'è frega Che de plastica Niente Perché Dovete mettere una volta Non è Vado Di mettere tutti i giorni Sempre la stessa felpa Perché poi Non è maglione nero Che dici Vabbè Ma magari ce ne ha tanti Dei maglioni neri Però se cambia No Se vi mettete questa Per una settimana De fila Poi la gente Si chiede Ma questa Ancelava Capito Non è che ce ne hai tante De queste Quindi Felpa De plastica Ma pure quella Pagata tipo 3 euro 4 euro Quindi Poi Questo rega Una chicchetta Questo Come metto Il giorno di Natale Se mi entra Non so Perché ho preso Un po' di tempo fa Ormai E anche questo Parte di una collaborazione Che mi hanno mandato Quest'anno E c'erano tutti Sti vestiti a tema Su sto sito Fighissimo E uno dei vestiti Che ho preso Uno era di Halloween Tipo Uno era elegante Che è quello Che ho usato Che fa la strega Halloween E poi c'era questo Che l'ho preso Proprio perché Molto natalizio Però un natalizio soft Cioè un natalizio elegante No Non un natalizio trash Secondo me Carino No A me mi piace molto A me mi non si dice Ma però io lo dico Perché è più meglio Scusate Questa cosa ieri Luca mi ha messo in testa Non mi se leva più dalla testa Non riesco a di nient'altro Comunque È carino È carino Secondo me Non so se mi entra Devo provare Però è leggero Però non ci interessa Manco questo Perché noi ci mettiamo Le calze felpate Calze felpate per tutti Più calze felpate per tutti Ecco Questo era quello Che dicevo Che mi sa che E infatti Allora questo ce l'ho Da una vita Cioè credo di averlo Da prima Che mi sposassi Quindi veramente Ora 15 anni Sto vestito Il problema è che È una S Terra Nova S Non credo che mi entrerà mai Un po' salsiccia Forse Tipo budello di maiale Può darsi Sicuramente non una cosa Che dovrei mettere Era carino però Un bel ricordo Lo tengo Per l'anno prossimo Magari Ma figuriamoci L'anno prossimo Forse non mi entrano Neanche gli altri Vabbè Idem Per questo Che pure questo Ce l'ho da prima Che mi sposassi È di Beshka Però questa è una M Quindi qui Nutro delle speranze Perché ci mancava Del verde Ragazzi Io mi vestivo così E non l'ho mai buttati Proprio per il principio Per il fatto Te li sei messi due volte Non è che c'è bisogno Di buttare Sono nuovi Solo che C'ha veramente Tantissimi anni Mi ricordo che Ce l'avevo all'università E è super natalizio E è verde E non c'avevo niente di verde Quindi questo ci piace molto Moltissimo Poi Questo è Questo è quello Trash Kitsch Questo è kitschissimo Vero? Dai carino No? Cioè L'elf phone Cioè Babbo Natale col cellulare Questo è preso da H&M Ovviamente dopo Natale E quindi pagato pochissimo E quindi messo il Natale successivo E Bello Se fanno grossi affari dopo Natale Sulle cose del Natale Poi Questa non so se possiamo considerarla Una cosa natalizia Ma a me mi piace Considerarla una cosa natalizia Ovvero Questa camicia Io ce l'ho Da quando c'avevo 12 anni 13 anni Ma forse prima È una cosa che mi ha comprato mia madre In uno di quei negozi Degli anni 90 Un po' scicchettosi No? E praticamente È una camicia Era via del corso questo negozio È una camicia A quadri A scacchi Con i personaggi Della Disney Però i personaggi della Disney Sono tipo tirolesi Quindi io considero Natalizio Ed è bellissima E ve giuro Cioè L'ho messa tantissimo Quando ero piccola E l'ho messa anche da grande Perché non so Per quale strana ragione Ancora mi entra Considerate Ah è una 40 Non si legge Non si legge più Capito Cioè È made in Italy Di Segreta By Emanuele Squili Boh Vabbè Comunque c'è Quanto è bella E soprattutto Non la butterò mai Perché tipo Troppi ricordi Ma ora Non siete pronti Ai due pezzi speciali Della mia collezione Natalizia Questi Sono i due pezzi Più belli Secondo me Della mia collezione Natalizia Poi ditemi la vostra Ma È un dato di fatto Ok Ta da Sì regà C'ho i maglioni De Natale Dell'Idol Allora Questo qui Che Perché Questo qui È uscito in Italia Anche quest'anno E anche questo Solo che L'anno scorso Li attendevamo in Italia E Non uscirono E Il mio amico Che viveva a Londra L'anno scorso A Natale È tornato E mi ha portato questo Cioè Voi sapete Il mio amore per il Lidl Non so chi di voi Già c'era Ma Uno dei primi video Nostri Che diventò Un po' celebre Perché Fece tante visualizzazioni In poco tempo Fu quello Dove Abbiamo comprato Tutta la collezione Dell'Idol Quando uscirono le scarpe Quel video Un milione di insulti Una cosa Vabbè In realtà Non l'ho fatto Solo per il video A me Queste cazzate Mi piacciono Mi piacciono tanto Cioè Quando mi vedete Comprar ste cose A me Mi piace proprio Averce ste cose Strane No Ok Quindi Quando Sapevo Che dove hanno uscito I maglioni Io casatissima Maglione De Natale Lidl Perché Non lo dovrei Comprare Ok Solo che In Italia Non arrivarono L'anno scorso E quindi Lui me l'ha portato Da Londra Quindi questo C'ha un valore Aggiunto Quest'anno Invece Costano poco Tipo 10 euro 11 euro Cosa del genere Quest'anno Invece Sono usciti Anche in Italia Sono usciti Tutti e due Modelli In realtà Quest'altro È da uomo Non l'ho neanche aperto Ancora Tanto vabbè Lo sapevo Che mi piaceva E Praticamente Questo qui È da uomo Infatti ho preso La S Di questo Perché è proprio Un modello Più grande Però Io li volevo Entrambi E quindi Ho anche Il maglione Da uomo E questo È fichissimo Cioè Quanto è carino È troppo bello Non lo so Se lo trovate ancora Perché è uscito Tipo Non questa settimana Quella prima Però Non sono andati A ruba Come scarpe All'epoca Quindi può darsi pure Che qualche rima su io Cioè Non so se nessuno L'abbia comprato Perché si vergogna Di metterlo Io no Cioè Sono tipo Super piazzata Se lo facesse pure Eurospin Comprerei pure quello D'Eurospin Detto Tre noi Quindi c'ho I due maglioni Di Natale Dell'idol Poi Questa è la mia cover Dell'iPhone 11 Ma ho cambiato Telefono Quest'anno E non ho comprato Come una stupida La cover Natalizia Del nuovo telefono Quindi Ho questa Del vecchio telefono E non c'ho Quella del nuovo telefono Sono una cretina Cioè potevo ordinarla Tranquillamente Su Shein Ce ne saranno state Centomila Io come una babba Non l'ho comprata E quindi Quest'anno Non c'ho la cover Natalizia A meno che non appiccico Gli adesivi Sulla Che sono Degli orecchini Su albero di Natale E praticamente Ora Ho una busta Busta Una busta Intera Di accessori Natalizi Allora Questi sono quelli Che ho preso Da Shein Che avete visto Nel video Del calendario Dell'avvento Di Luca E già mi sono messa Questi oggi Che posso dire Pensavo mi dessero fastidio Perché sono dei cerchietti E mi si impigliassero Invece no Sono molto leggeri Molto comodi Ma certo Sicuramente poi diventano neri Buttate No in realtà no Buttate solo il cerchio Perché questo qui Il ciondolino È mobile Quindi lo potete togliere Dal cerchio E buttate il cerchio Al massimo Ho gli elastici Presi su Shein Quindi anzi Mo li tiro fuori Perché ormai Oggi è primo Quindi ci siamo E poi ragazzi Ho tutte le cose Del calendario Dell'avvento Ma non sto qua Manca a tirarvele fuori Questi sono più belli Secondo me Cioè quanto sono belli Domani metto questi Deciso che ogni giorno Cambio gli orecchini Potete vedere Questa cosa Dei miei orecchini Tutti i giorni Anche nei Wiki vlog di domenica O nei vlogmas Che poi io non faccio Vlogmas Faccio i shortmas Ovvero Avete visto il nuovo formato Di youtube Quello in verticale Che ve scorrono I video Ok Ho deciso Che come l'anno scorso Ci riprovo L'anno scorso Non aveva visti nessuno Quest'anno Non lo so Se vede qualcuno Bene Se no chi se ne frega Però a me Mi rimane ricordo E racconto Tutte le mie giornate In un video Di 60 secondi Quindi manco Troppo sbatti Per guardarlo Che dovete Stare a sentirmi Che parlo Quarto d'ora È tipo Solo 60 secondi E vi racchiudo Tutta la giornata Tanto io non è che faccio Chissà che Quindi Allora Poi Vabbè Qui c'è veramente L'imbarazzo Della scelta Dei gioielli natalizi Perché Tutti questi Li ho trovati Nel calendario Dell'avvento Di Kinsai Altro elastico Per capelli natalizi Oh Lo so Forse Ah Questo qua Che io continuavo A leggere Mary 90 Mass In realtà Mi avete detto Che quel 90 È una X Però Raga Io vi assicuro Che la X È più brutta Dell'universo E sembra Veramente un 90 Io non so Se si capisce Ma Cioè Che X è Che X è Veramente Comunque Tutta sta roba Mi sa che la devo tirare fuori Perché se no Io a mattina Poi mi scordo Uh C'ho pure questi Da attaccare Ai lacci Delle scarpe Comunque Sono affurminata Cioè Questo Potete dirlo Tranquillamente Che non so Tanto sanatemente Altri elastici Ma li tiro fuori E poi i cani Li fanno sparire Ah Qui ci sono anche le lucine E direte Ma scusa Chiara Per fare questo video Non avresti dovuto avere L'albero di Natale Alle tue spalle A voglia Se avrei dovuto Solo che Mi marito Ancora non mi ha portato De qua De l'angaraggio A me Mi fa schifo Come l'hanno scorso A fine lui Non ce va Prendemelo Ce vado io E faccio l'eroe Però c'ho queste Queste intanto Potrei mettere Però volevo mettere Tutto insieme Più che altro Volevo farlo con lui Perché è un po' triste Farlo da sola No Cioè Mi dispiace Non aspettarlo Ah Questi sono bellissimi Ma perché ho comprato Tutti i suorecchini Con un guanzi Però questi sono Proprio belli No allora forse Domani mi metto Questi O questi Li teniamo Per più avanti Proprio per il clima Natalizio Tipo per andare Ai mercatini di Natale A proposito Qui ne fanno Un sacco diversi Di mercatini di Natale Se capitate a Perugia Perché tipo Per il ponte Dell'Immacolata C'è una manifestazione Di dolci In centro Poi cominciano I mercatini Sotto la rocca E poi Al Barton Park Vicino allo stadio C'è tutta una manifestazione Con bancarelle Babbo Natale Cose varie E quindi ci sarà Un sacco da fare Quest'anno Anzi Mi devo pure sbrigare Perché Oh Non sembra Ma voi state a guardare Il video Che oggi è due Non lo so Cioè Tac E tocca cucina Per 24 Sarà un bel video Quello del 24 Quindi iscrivetevi Al canale Se siete capitati Qui per caso Ok E con questo è tutto Perciò abbiamo Uno due Quello non ho conto Perché mi sta piccolo Tre Quattro Cinque Sei Sette E sette Nove Dieci Avevo detto Che erano dieci Peccato Me ne mancano ancora Quattordici Vabbè Con calma Con calma Accumulerò Agosto ne compro Qualcun altro Così per l'anno prossimo Ce ne ho 24 Ecco È un bel progetto Quindi Dalla mia Collezione Di maglioni E cose improbabili Che non dovreste avere Ma che io invece ho Di Natale È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.